In questa zona qua che è molto bella dal punto di vista paesaggistico ma purtroppo sono rimasto praticamente l'unico che ancora coltiva questi terreni perché il problema dei cinghiali è veramente diventato di una dimensione fuori controllo. Siamo ad Altavilla Vicentina ai piedi dei colli berici e questa è una delle voci del mondo dell'agricoltura che ci racconta come il passaggio dei cinghiali rischi di vanificare il lavoro di molti agricoltori che rilevano danni ingenti alle colture e di conseguenza perdite economiche al punto che alcuni rinunciano a coltivare. Questi animali nelle varie colture, nelle varie periodi dell'anno quando un po' prima della raccolta, quindi sentono i frutti maturi eccetera, loro entrano e si nutrono di questi prodotti, si nutrono e più rovinano quindi come nel mio caso anche l'anno scorso in questo vigneto il danno è stato del 100%, non ho raccolto nulla. Per questo vigneto le prospettive non sono assolutamente buone perché ovviamente il danno già adesso siamo ben sopra il 50% di perdita del prodotto, saremo anche un 70% e alla vendemmia mancano 15 giorni quindi la vedo dura. Ma ad essere messe a dura prova anche altre colture, fattore che spinge gli agricoltori a trovare soluzioni alternative. Il mais in questa zona è assolutamente off limits perché ovviamente appena comincia a crescere viene immediatamente attaccato dai cinghiali, non un cinghiale, sono branchi molto numerosi, sono 10-15 cinghiali alla volta e nel giro di pochi giorni ti devastano ettari di mais quindi qui in questa zona non lo coltiva più nessuno. Io sono passato una parte dei terreni a erbaggio, erba medica perché ovviamente nell'erba medica che viene sfalciata più volte all'anno il danno è diciamo più contenuto. Situazione attenzionata da più fronti ma per la quale viene chiesto un sostegno da parte delle istituzioni. Attenzione dei ristori accettabili che non siano simbolici e in tempi accettabili dopo due anni, dopo tre anni perché ovviamente noi i costi e le spese li abbiamo subito. Controllo dei cinghiali nel Vicentino che è stato potenziato, i numeri forniti dalla Polizia Provinciale di Vicenza sottolineano come da gennaio a luglio si siano contate 8.804 uscite e 1.057 abbattimenti.